Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Giglio delle Convalli, Maria Santissima! Per quella lezione misteriosa, chiedeste di tener l'anima sempre candida al par della neve chiunque. Bramoso del vostro patrocinio, ama di erigervi nel proprio cuore un tempio consacrato al vostro culto. Ottenete a noi tutti, o Gran Vergine, di aver sempre sollecita cura della nostra interna mondezza, ma specialmente di conservare illibata la santa purità, che fo sempre la virtù da voi e prediletta, siccome quella che trae seco tutte le celesti benedizioni. Così sia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.